appassionati di moto d'epoca bentornati con lo stego mi trovo a trieste e qui c'è una splendida motocicletta degli anni 80 guardate una onda xl v siamo nell 85 con dei cerchioni dorati questa è stata la prima moto enduro di grosse dimensioni degli anni 80 ed è anche incredibilmente ben tenuta guardate i cerchioni dorati che belli guardate la strumentazione io me le ricordo bene il motociclismo con le prove di questa moto erano le moto della mia generazione davvero stupenda anche il contagiri molto bello adesso questa moto rimane fuori si vede le viti che arrugginiscono però è una moto dal grande fascino oggi sembra piccola rispetto alle moto odierne però allora quando uscì era una super moto faro rettangolare e bel motore bicilindrico 750 e questa fu la progenitrice della africa twin con queste ultime immagini con questo fortunato ritrovo vi saluto tutti ciao da lo stego e da trieste